Io sono molto più interessato alla salute dei cittadini e quello che è avvenuto è veramente contro la tutela e la cura dei cittadini. Questi ospedali Covid che si dovevano realizzare urgentemente, perché bisognavano i pronti subito, sono né più né meno che dei container nei parcheggi degli ospedali, tra l'altro chiusi, non hanno avuto né i collaudi, né l'autorizzazione per i macchinari e né i protocolli di cura, che è la cosa più grave. Lei sa che è stato aperto per pochi giorni quello di Napoli, poi è stato subito chiuso perché non c'era l'autorizzazione. Lì le persone hanno perso la vita, hanno perso la vita perché non sono state curate nel protocollo di cura per la loro malattia. Noi abbiamo denunciato questa gestione in realtà nel mentre accadeva, le dico perché, sin da subito io ho chiesto al Presidente De Luca, anziché utilizzare 18 milioni di euro per delle lamiere degli ospedali prefabbricati, di utilizzarli per ripristinare ospedali dismessi o comunque per realizzare terapie intensive in ospedali di fatto svuotati, in maniera tale che quei soldi poi sarebbero rimasti alla cittadinanza anche al termine dell'emergenza. Allora mi fu risposto che dovevamo fare in fretta e che avevamo comprato questi prefabbricati chiavi in mano, inclusi i ventilatori. Fare in fretta ha significato che l'ospedale di Napoli, quello di Ponticelli, il prefabbricato prossimo all'ospedale del mare, è stato di fatto attivato il 4 di maggio. Quindi praticamente ci hanno messo due mesi da quando era partito il bando. Mentre l'ospedale che si trova, il prefabbricato che si trova a Salerno e quello che si trova a Caserta non sono neanche mai stati collaudati. Ma indubbiamente è difficile esprimere un giudizio non conoscendo gli atti che sono per ora solo a conoscenza della Procura e quindi esprimere un giudizio su quelli che sono i documenti. Qui secondo me bisogna dividere il discorso. Esistono procedure super semplificate e super accelerate per arrivare a una giudicazione. Poi c'è una seconda parte. Quante sono le imprese che possono partecipare a gare di questo tipo? Sono poche in tutta Italia perché sono super specializzati. Ma il bando, tu lo hai fatto, cucito addosso ad A, B o C e A, B o C ti era stato segnalato? Questo non lo sa nessuno. Penso che sia in corso di accertamento. Se fosse così allora oggettivamente sarebbe una turbativa d'asta.